Il tempo, l'elemento più prezioso davvero da non perdere quando arriva una tegola ad abbattersi sulle persone, come può essere una patologia grave e improvvisa, ad esempio quelle cerebrali, ictus, ischemia, neurisma. I molisani hanno la garanzia di potersi curare nel caso in cui si trovino loro malgrado a combattere contro una di queste malattie, contro uno di questi malori? È l'interrogativo che ha innescato le polemiche di questi giorni scaturite dal programma operativo 2022-2024 presentato dal governatore commissario Donato Toma ai cittadini e ai ministeri affiancanti, finanze e salute. Un piano contro cui l'ultima a scagliarsi è stata Tecla Boccardo. La leader della UIL ha chiesto che venga bloccato subito perché rischia di produrre danni irreparabili, queste le sue parole. Un allarmismo ingiustificato, ribatte Toma dai microfoni di Teleregione. Legga meglio prima di parlare, ha detto, spiegando che per il politrauma non c'è alternativa al trasferimento a Napoli o Pescara. Il paziente va a Napoli per il politrauma, che non è curabile in questo momento in Molise perché richiederebbe un DEA di secondo livello che non ci è stato autorizzato e sul quale ci batteremo politicamente e ci stiamo già battendo. Ma attualmente, amministrativamente, non è possibile. Abbiamo detto che la radiologia interventistica si fa a Pescara. C'è una convenzione con l'Abruzzo, con il trasporto via aerea, con l'elicottero e nel caso in cui si debba intervenire con la radiologia interventistica, Pescara è in convenzione con noi. Ma abbiamo anche previsto che la radiologia interventistica sia istituita a Campobasso, al Cardarelli. A seconda della tipologia di X, c'è una rete regionale che viene attivata o al massimo, nel momento in cui chi fa la diagnosi si rende conto che l'intervento non è alla portata dei non so come i molisani, utilizzerà la rete più ampia che è quella del peripolitrauma, come le avevo detto, è quella del Cardarelli. Ma attualmente succede già questo. Il governatore punta sull'importanza della medicina territoriale, sulle 13 case di comunità da realizzare con 50 milioni di euro del PNRR e sull'attuazione di un ITER che consentirà di decongestionare il pronto soccorso degli ospedali. La previsione è anche quella di realizzare strutture per pazienti autistici, affetti da Alzheimer o con problemi alimentari. Ma il punto critico e criticato del programma operativo è anche l'accorpamento dell'emodinamica di Sernia, quella di Campobasso. Il reparto del Veneziale potrebbe funzionare per le emergenze solo negli orari diurni. In questo momento, non avendo la disponibilità sufficiente di medici in particolare e di personale sanitario per quella unità, l'unità lavorerà non H24, non 7 giorni su 7 e lavorerà in appoggio all'unità di, al lab di Campobasso, per cui non verrà chiusa assolutamente. funzionerà per ora come sta funzionando adesso per l'emodinamica cosiddetta delezione. Le patologie cardiache programmate, o meglio, gli interventi sulle patologie cardiache programmabili programmati, utilizzeranno comunque il laboratorio di emodinamica di Sernia. Quindi il fatto che Sernia scompare è una falsità. Grazie a tutti.